Una delle cose più brutte e forse tra le più patetiche della vita è quando una persona, panderessa o possesse, dimostra o prossima quella che non è. Una falsità che non riesce a raccontare è un'ipocrisia che fa perdere la pacienza pure a Dio, sti fabezone e fattente fanno la parte di santa. Chi è stato sincero è una persona leale per non s'ammiscare mezzo a quest'animale, preferisce mille volte sta solo che sta mezzo all'ora. Piuttosto che via che fa, gusti qua qua qua, preferisce sta casa per non ci parlare, perché sta gente è così favore che la loro falsità aveva pure un'nilla e due anni d'età. Sinceramente non c'è stata una persona più odiosa e schifosa e chi rinde all'anama pensa una cosa e si parla collata, non c'è stata una persona più odiosa. La vita è come una buata e tu, sicché la carina dici mietta. Mietta c'è gelosia e falsità e ha diventato pipì, unnezza e pupù. Mietta c'è gentilezza e sincerità e ha diventato coerenza, rispetto e dignità. Quanta gente tiene due facce, quanta cuore su chiuttuoste rirroce, parano casa senza fornì, a foro assomigliano a belli palazzi, ma a rint soffraci e chieni monnezza. «Guai a buia fa pezzone e buciarda, chi fa come a buia è sicuro che perde, quando il tempo fornisce e la vita svanisce, che vi portate con buia quando trasite in da'caccia? Balena, sporchizia, odio schifezza, oia barita che libiduna appena accattata, a foro si da bella, nuova e colorata, ma a rinta si da sporca, zezuso, puzzolenta e schifuta». Grazie. 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 Grazie.